Borgo Petilia si prepara a celebrare la festa del Santissimo Crocifisso e Sant'Isidoro. Già questa domenica 11 settembre ci sarà l'accoglienza dell'Avricedda alla Cattura con omaggio floreale da parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale e poi Santa Messa alle 19 e presentazione del nuovo Comitato Feste, con l'apertura ufficiale dei festeggiamenti che dureranno sino alla domenica successiva. Appuntamenti organizzati grazie al grande impegno della parrocchia ed ai circa 10 componenti del Comitato che permetteranno di coinvolgere i fedeli residenti della zona e non solo. Questa è una festa a Sant'Isidoro, a Borgo Petilia, che si tramanta da tantissimi anni, non ricordo bene, si parla del 1840, credo, per riservatore, dove c'erano i nostri nonni. Io sono nel Comitato di quanto avevo i miei 18 anni, ora 50 anni, e lo faccio con grande passione, grande gioia, come io, come tutti i membri del Comitato, anche ora sono entrati altri ragazzi nel Comitato, per portare avanti una bellissima festa che ricade nella nostra zona, qui ricopre il territorio di Caltrinsetta, Santa Caterina, sono dei territori agricoli, e mettiamo tutti il massimo impegno di portare avanti questa festa a Sant'Isidoro, con una grande riuscita e un grande risultato anche per tutti. Un fitto programma che preannuncia diversi momenti di intrattenimento e condivisione. Il 17 settembre, intorno alle 21.30, ad esempio, la strada statale 122 bis sarà inondata dalla musica. La domenica 18 settembre ci saranno giochi per i più piccoli nel pomeriggio, e per la serata finale si attende la presenza di Salvo La Rosa e di Enrico Guarneri in arte litterio, e poi anche tanta tradizione come la festa dell'aratura il 15 settembre. Abbiamo già da quattro anni, facciamo la festa dell'aratura, perché di copartire Sant'Isidoro agricolo, e noi portiamo avanti questa tipologia dell'aratura, la festa inizia con l'aratura, e poi siamo in preghiera, poi facciamo degli spettacoli, ma sempre ritorno a dire, per affiorare questa festa sul Borgopetia, sul nostro territorio. Tra Sant'Emessi incontri, i momenti di fraternità e la Via Crucis ci si prepara al giorno di festa, il 17 settembre, quando intorno alle 17.30 comincerà la processione per le vie del Borgo, mentre il giorno successivo ci sarà la benedizione delle spighe, ma anche agli animali e ai campi. È una festa che ci permette sempre più di consolidare quello che i nostri padri ci hanno donato con il loro sacrificio e con la loro devozione. E siamo qui al Borgo a rinnovare anche quest'anno tale festa in memoria di loro, ma anche perché la città chiede che questo Borgo possa rimettersi a vivere un momento particolare della propria fede in Cristo Gesù Crucifisso. Ed è per questo che questa Chiesa dedicata al Crucifisso diventa anche per noi motivo di meditazione, di riflessione ed essere anche pellegrini in Cristo Gesù in quanto Lui Salvatore del mondo. E c'è anche il compatrono San Disidoro, tanto caro agli agricoltori, ai contadini, perché in Lui c'è questa volontà di fare dire a noi che lo spirito del sacrificio viene poi gratificato con l'abbondanza della providenza di Dio.